Un attimo, una distensione. Un ultimo parte, viceversa, per me, c'è il peccato, il peccato. Si, peccato il peccato, il peccato. Come ho detto, come ho detto ai vostri colleghi, io in questo momento mi sento molto rassreno. Perché se non ti misturi direttamente con le reali cose della Liga, però hai sempre pensi di poter essere realmente la squadra di Materasso o di non essere all'altezza. E dopo questa partita io mi sento più tranquillo perché sicuramente noi non saremmo la squadra di Materasso, sicuramente non si teme di vista campionato, però si vede anche per non dire a quello l'obiettivo e quindi mi sento più tranquillo che sia in particolare la prestazione ci sta tutta, le condizioni climatiche ci hanno, non ci hanno sicuramente, non si vuole dire che ci hanno penalizzato rispetto alla squadra di Materasso, però sicuramente hanno contribuito a leggere il campo.